Dammi queste chiavi, dammi. E non me le potevi dare aperte, no? Dov'è? Dov'è quella giusta? Perché non ci metti qualcosa per riconoscerla? Ma metti su un colore, dipingile, no? Ma è Mariangela, Ugo, nostra figlia. Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina. Attento, ho messo la cera. Ma quanti film avete fatto insieme? Mi pare 9. 9? Sì, sì. Tra l'altro hai vinto anche il David di Donatello per questo personaggio. Ma sta arrivando, sta arrivando, finalmente ha trovato posto il ragioniere Ugo Fantozzi e la sua mitica bianchina. Eccolo! Venga, ragioniere! Ragioniere, sei fatto male. Dammi una mano però. Ragioniere, ma che è successo? Cerco di dare una mano alla ragioniere. È davvero. Ragioniere, che è successo? Ragioniere, venga, venga qua. Ragazzi, datemi la mano. Piano, piano, piano. Scusate. Ragioniere Ugo Fantozzi. Venga. Mi ha fatto prendere un conto, mi ha fatto prendere. Ma... Mi confesso che... Ha visto che a momenti cadevo. Come a momenti cadeva? È caduto. Si è fatto male. Mi sono fratturato il gomito. Una sciocchezza, una frattura multipla. Una sciocchezza. Mi accompagnano. Venga, venga! Che c'è la signora Pina, la stava aspettando. Sono... Sono abbaccinato e l'ho fincato. Eh... Da... Da questi signori che ci... Sono pagati. Eh, no, assolutamente. È un pubblico. Perché si alzano in piedi tutti. Perché per lei, per lei, ragioniere Ugo Fantozzi. Per lei è il minimo. Venga, venga. Allora, mia moglie. La signora Pina. La signora Pina. Buongiorno, signora Pina. Che bello vedervi insieme. Com'è che bello? No, che bello. Beh, no, non è tanto bello. Si accomodi. Vedi, io sono molto... Ci posso dire una cosa? Mi dica, mi dica. Le voglio dire una cosa, che io sono da anni, da un sacco di anni, dai tempi di quello che faceva... Come si chiama quello? Io? Io? No, no, quella trasmissione era il mio mito. Chissà chi lo sa. Io? Ma quello è Febo Conti, non so mica io. Come? Ma Febo Conti! Ma come Febo? Ma io sono Carlo Conti. Ma non dico, ma ero lusingato perché pensavo che lei fosse Febo. No, no, no. È vivo Febo? Ma certo che è vivo. E lei... Ma come? Anch'io sono vivo. Sei sicuro. Ma sono sicurissimo, sto benissimo. No, sta benissimo, però parla... No, che parla? Non è italiano. Ma sono italianissimo. Giorgione. Senta, mi ha detto piuttosto la sua moglie che è in pensione. Non faccia quelle... No, è in pensione. Guardi che io avevo fama di essere come... Eh. Ha capito che, no? Infaticabile. Poi, improvvisamente, a una certa età, purtroppo, a me è successo un incidente che... Ce lo dico, non lo dica in giro, però... No, no, ci mancherebbe altro. Ha avviato Macelli e so... POM! Mi sono caduti tutti gli organi genitali. Ecco. Ve l'ho ridetto. E' un vigile che mi mette roba sua. Io... Zitto! Ha fatto vita di niente! Ha, 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 ha! Vengono la pena. Però... Do un consiglio... Hai suoi... C'è della gente che vede in questa... Ma come c'è Certo? Hai certo! Quanti sono? Tanti! 6 milioni e passa la scorsa settimana lei è invidioso di Fazio si adesso ma no ma che c'entra ma si figuri adesso do consiglio a tutte le persone non giovanissime ci sono alcuni che lei cosa ha un 90 ma che 90 anni va bene rifugiatevi nell'ultima zona della vostra vita l'ho fatta anche lei lei ha attività zero no 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 sono voci di corridoio rifugiatevi nell'amore non è vero che il matrimonio sia una bellissima avventura è un'avventura molto difficile e allora bisogna rifugiarsi nell'amore per una sola persona è vero rifugiarsi e a proposito di amore la pina le faccio vedere una scena straordinaria l'amore nel film con la la sua pina vediamo devo dirti una cosa importante non dirmi il risultato della partita per favore non è il risultato è una cosa molto più importante calcio di rigore contro l'italia no 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 Ugo ti prego rigore contro l'italia veramente importante rigore contro l'italia si prepara ecco che prende la ricorsa parte il tiro io voglio sparato sparato perciò sulla sinistra di Zosso campes sparato Ugo allora ti cocedo venti secondi di udienza di mi sono innamorata di un altro uomo va bene ora hai detto e vai vai che c'è la partita al ventunesimo del secondo tempo Fantozzi finalmente realizzò e ve lo viene a dire così parca puttana ha sofferto molto eh ragione Fantozzi ha sofferto molto perché lei si era innamorata del garzone del fornaio esatto che aveva culo basso e aveva un alito ragazzi come una fogna di Calcutta una cosa ed era batantuono non so se ricordi e alla fine di questa scena adesso io signore è un momento delicato perché io ho voglia di farvi di di non riesco a parlare cioè dimostrarvi ma lei ha detto che non era italiano invece non sono italiano però riesce a parlare ma ho capito quello che voleva dire ecco io sono molto emozionato ho mani spugnate lo sente e le accette due trotte marce va bene insomma allora voglio che pubblicamente di fronte a questo quanti sono? 6 milioni ciao Pepe 6 milioni di chi di come si dice? Dica latina dica dica ecco io ti faccio la soletta domanda Pina dillo di fronte a tutti con come si dice? enfasi ma insomma cosa vuol dire? ma è sicuro che si dice? no non so immagino che voglia dire con molto passione è un piatto nazionale cosa è l'enfasi va bene devi dire con molto entusiasmo tu mi ami? ecco Ugo aspetta un momento attenzione che adesso lo dici ecco io ti stimo moltissimo bisogna sapersi accontentare ecco eppure bisogna sapersi accontentare bisogna sapersi accontentare ma perché ridere? no perché è bellissimo ma lo fa di mestiere? no no ma ha fatto ridere c'è gente che ride no no lo sa ragione del fantozzi è vero? lo sa glielo dicevo oggi ragione del fantozzi io credo e nel fare i migliori anni abbiamo parlato di tanti personaggi abbiamo capito che questo è un personaggio trasversale che piace a tutti tutte le quando parliamo di un personaggio negli anni 70 80, 90 oggi qualsiasi ragazzo ama i film di fantozzi tutti noi siamo cresciuti con fantozzi fantozzi è un grande personaggio perché ha l'anima l'anima vera e oggi mi ha raccontato Paolo esco un attimo dall'intervista sì ma non troppo no 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 lei stia sempre cosa vuol dire trasversale? ho un paura che piace a tutti è una malattia no no che piace a tutti stia tranquillo perché un po' gli italiani si riconoscono e un tempo ai primi tempi dicevano sa che questo personaggio caro dottor Villaggio mi ricorda il mio compagno di lavoro eccetera il mio vicino di destra il mio vicino poi alla fine dopo qualche anno ho detto sa che mi ricorda proprio me sono io il ragione del fantozzi e quindi è vero è vero questa è una cosa bella fantozzi subisce subisce ancora mi avete passato di tutti i colori signora Pina si ricorda quando quel fiore di vostra figlia la scimmia purtroppo è rimasta incinta eh sì la reazione composta del ragioniere fantozzi rivediamola insieme vedi questo cerchietto colorato qua qua è significa che Maria Angela aspetta un bambino aspetta un bambino ma dico ma le otto e mezza ma io ho fame che cosa c'è Pina ma dai Pina ti prego tu lo sai che sono un padre civile e moderno e voglio affrontare la questione da solo con comprensione e dolcezza hai capito lasciami fare da solo no papà aiuto io l'ammazzo sai io l'ammazzo sai io l'ammazzo sai vieni qua vieni qua che sfacca in due che sfacca io l'ammazzo che sfacca che reazione che piccato senta la mia fantozzi adesso che è in pensione cosa fa qual ti interessa io mi tengo in vita con molti trasversali poi me lo traduce mi tengo in vita guardando per esempio mi piace molto l'isola l'isola di famosa no fa schifo l'isola mi ha detto gli piace va bene lo so che lei leggo legge a me mi piace molto la storia la storia quindi allora se venisse da me all'eredità qualsiasi domanda lei si per storia però solo storia mi facci una domanda faccia com'è faccia ma faccia è questa credi no mi facci no scusate non è per il gusto io ho la sensazione che lei non parli un italiano regolare io no mi dici mi dici mi dica mi dica ecco allora la domanda è che cos'è il kibbutz 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 un momento aspetta dunque ah dunque kibbutz kibbutz ha capito kibbutz è un urlo di notte di una contadina dentro un trullo ad albero bello quando alle 3 del mattino bussano in maniera minacciosa allora la povera contadina grida kibbutz giusto vabbè milena signora Pina mi dica lei lo stima molto no come no dico lo stima molto ci ha detto prima questa dichiarazione bellissima non più non prenda no ha quell'intenzione no 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 io volevo sapere voi stranieri è almanese lei ho capito no no nel recitare con Paolo Villaggio quali sono stati i momenti più belli e quelli più emozionanti dai lo sai quello lì come quello lì lo so perché anch'io mi sono emozionato molto e insieme l'abbiamo ricordato spesso quando lui poi lei lei continua e conferma quando lui torna dopo che è andato da Batantuono dal fornaio eccetera al fornaio dice quel cesso di tua moglie non schifo torna a casa e gli dice innamoratissimo lui te lo ricordi molto innamorato ma ha fatto molta pena e lei che era in primo piano piangeva perché capiva l'eroismo di quel disgraziato e alla fine io ho detto ma tu Tina mi ami e lei ti stimo moltissimo è vero che è quello forte una delle scene che tutti noi abbiamo nella nostra memoria del ragionale Fantozzi è quando la mattina presto deve prendere l'autops e parliamo proprio del Fantozzi del 75 con la regia del grande Luciano Salce vediamo guarda che scena che combina che è stato il primo si può sapere chi è stato il primo lui è stato il primo e ne ha combinato tutti i colori sì aspetti però era lei? no ecco scusate approfitto di questa occasione unica con questo albanese che lo dica alla fine vado a vedere per presentarvi la persona con la quale ho convissuto per 40 anni la mia controfigura un cascatore ma anche un attore più bravo di me vi devo dire è più bravo di me Clemente Uckmar che viene qui vieni qui vieni ecco la qua la controfigura del ragioniero Ugo Fantozzi sì ma non è controfigura perché diciamo la verità lui in certi momenti in campo lungo era molto più comico di me credo spero 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 senti voglio salutare anche la sua signora Pina che invece si chiama Anna ci voglio far vedere una cosa questa è una pancia finta quando abbiamo cominciato a lavorare insieme 40 anni fa lui non aveva la pancia poi nel giro di quasi 40 anni la pancia le abbiamo cambiate 7 7 pance grazie grazie carissimo grazie grazie mille per chiudere Paolo togliti il cappello di Fantozzi eh certo lo vuole lei ce lo metto a lei me lo metto io no perché voglio me lo metto dopo per salutarti no ce lo metto adesso va bene me lo metto subito me lo metto subito così fa schifo eccolo no perché vi volevo chiedere a tutte e due voi avete avuto l'onore di lavorare con uno dei grandi nomi del cinema italiano che ha scritto la storia del cinema italiano Mario Monicelli che è scomparso in settimana alziamoci in piedi grazie mille ma guarda Milena Milena tu hai fatto tra l'altro amici miei amici miei la moglie del conte Mascetti qual è il tuo ricordo di Mario? beh di un di un uomo estremamente giovane pieno di energia e voglio ricordarlo così un uomo un vecchio grande giovane no io dico che Manuel Monicelli non ci mancherà mai perché fortuna assolutamente adesso dopo l'evento morte la televisione ci sarà vedere tutti i suoi film penso che li facevano vedere solo di notte eccetera facevano vedere delle stronzate terribili e invece adesso c'è anche lui il mio primo film è stato Branca Leone con Mario Monicelli con Mario Monicelli e Monicelli dato che c'era Gasman vestito da Branca Leone che faceva paura vestito da Gasman che era corteggiato da insomma tutti gli omosessuali eravamo in Algeria a un bel momento Branca Leone fa io sono sempre circondato allora Branca Leone e allora Monicelli fa qui c'è un pericolo grave che Branca Leone alle crociate diventi Branca Leone alle frociate beh e con questo e con questa battuta del grande Mario Monicelli io ringrazio questo grandissimo straordinario Paolo Villaggio esagero col cuore lo sai lo sai Paolo e questa straordinaria attrice che è Milena Bucati grazie di essere stati con noi sì mi sposto no andate via di qua grazie anzi di qua di qua mi dicono di qua vi accompagno venite così ricevete ancora l'applauso